Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali, dalle 8.30 alle 10.30, cronaca e curiosità. Sono le prime pagine dei quotidiani cartacei, partendo dal Corriere Adriatico, edizione maceratese, guasto all'autobus della Gita, studenti dormono in autogrill, odisseina 14, giovani passano la notte a Cerignola sorvegliati dalla polizia. La fotonotizia è dedicata agli aperitivi europei, aperitivi da boom, ma è polemica dal comune, frecciate a chi non ha aderito, ma comunque beneficia della festa. I templari della cocaina nella rete dei carabinieri sballo in provincia, sequestrato un chilo di droga, neguai il gestore di un supermarket e un artigiano. Le altre notizie, licenziato dall'Asur, un furbetto del cartellino e poi vendi marijuana a un minorenne, terzo arresto per uno straniero blitz a fonte a scodella. Il processo, Luca Traini, legale dei feriti a Traini contestate, anche il terrorismo e poi il panorama sanità, il soccorso in volo in cantiere 17 piste per eliambulanze. Arresto del Carlino macerata, la fotonotizia invece dedicata alla Raci, un ballo con le tradizioni. Villa Potenza, taglio del nastro per la rassegna agricola del centro Italia, all'insegna del rilancio. Dopo il terremoto ci riscioli pronti 200 milioni di euro per fare ripartire l'agricoltura. Omicidio di via Spalato, le indagini dei carabinieri, abiti dei nigeriani alla setaccia, nessuna traccia di Pamela. Il RIS ha depositato la perizia su vestiti e scarpe di Desmond e Willi, ma attesa per le verifiche sulle celle telefoniche il mistero dello scontrino. Droga spaccia a uno studente bloccato, un chilo di cocaina nel market, giro d'affari da 150 mila euro. Arrestati, gestore complice, spunta la lista dei clienti. Macerata, aperitivi europei, boom, i commercianti esultano, mai vista tanta gente. Camerino, furbetto all'ospedale, ora scatta il licenziamento. Queste le notizie di oggi, iniziamo proprio dal Carlino Macerata, la città degli eventi. Parliamo degli aperitivi europei, la festa è col botto, tanta gente anche da fuori regione. I commercianti del centro esultano, sta andando davvero alla grande. Molto meglio rispetto agli altri anni, è questo il pensiero che accomuna appunto i commercianti del centro storico alle prese con gli aperitivi europei. Oggi per l'ultimo giorno ci si aspetta un'invasione vera e propria di clienti, non solo maceratesi a degustare i sapori di ben 72 nazioni, ma tanta gente da fuori provincia, addirittura da fuori regione, è venuta appositamente per una festa dell'Europa che dimostra di essere anche sempre più attrattiva. E oggi c'è, come dicevamo, il gran finale. Scipioni fa il bis, show cooking alla loggia dei mercanti, a Palazzo Bonaccorsi, gli ultimi giorni della mostra Capriccio Natura, visite guidate con i curatori. Lasciamo la pagina degli eventi, ci torneremo ovviamente dagli altri quotidiani. L'SOS Sicurezza, ora, pagina 4 del Carlino di oggi. Spaccia, droga, un quindicena, arrestato e condannato. Gambiano, bloccato al parco, sarà espulso. Era già stato arrestato quattro volte per spaccio, ma giovedì mattina gli agenti della squadra volante lo hanno sorpreso di nuovo al parco di Fonte Scodella, macerata, mentre vendeva quattro grammi di marijuana a uno studente di 15 anni. Ora, però, è stato condannato a tre anni di reclusione. Si tratta di Lamin Turey, gambiano di 37 anni. A fermarlo erano stati gli agenti della squadra volante della questura di Macerata, che giovedì mattina, intorno alle 10.30, stavano facendo un giro di controllo di città. Si prendono a botte in piazza, poi insulti e spinte ai poliziotti, portati in questura e denunciati. Un pregiudicato è un nigeriano. La legra serata in centro è finita in questura per, appunto, un nigeriano è un pregiudicato. È successo poco dopo l'una della seconda serata degli aperitivi europei, l'altra notte in piazza Vittorio, Veneto. Caso Pamela Mastropietro, perizia sui vestiti dei nigeriani, nessuna traccia di Pamela, abiti, scarpe e asciugamani sequestrati a Desmond e Awe Lima. Dunque, dicevamo, nessuna traccia, neppure minima, che possa ricondurre a Pamela Mastropietro. Il reparto investigativo Investigazioni Scientifiche di Roma ha infatti depositato l'ultima perizia fatta sui vestiti, le scarpe e gli asciugamani di Laki Desmond e Awe Lima Laki, due nigeriani accusati con innosento segale di aver ucciso e fatto a pezzi la diciottenne romana, fuggita dalla parsa di Corridone il 30 gennaio. Oltre agli accertamenti fatti nella mansarda di Via Spalato, esaminata palmo a palmo dal pavimento alle pareti, i carabinieri avevano sequestrato anche le scarpe, asciugamani e vestiti ai due indagati. Un paio di pantaloni con delle piccole macchie erano stati ritrovati in un cassonetto vicino all'hotel Recina, dove viveva Awe Lima. In ogni modo, si ricorda nessuna traccia di Pamela. Parliamo ora dei test invalsi. Insorgono prof e famiglie, domande assurde per bimbi di 10 anni. Nel mirino inquisiti del Ministero e alle superiori c'è chi si rifiuta. Raggiungerò il titolo di studio che voglio, avrò sempre abbastanza soldi per vivere nella vita, riuscirò a fare ciò che desidero, riuscirò a comprare le cose che voglio, troverò un buon lavoro. Ecco, queste sono le domande dalla parte aggiuntiva delle prove invalsi. Più specificatamente, pensando al tuo futuro, quanto pensi che siano vere queste frasi? Le risposte possibili si suddividono in per niente, pochissimo, poco, abbastanza, molto fortemente. E scoppia ovviamente la polemica. Il problema è l'idea di mondo che c'è nella testa di chi crea queste domande, spiega Gabriele Cingolani, professore di lettere al Licio Classico Leopardi di Recanati. Dunque polemica su questa domanda riguardo ai guadagni e alle aspettative di vita. Centro ipico, stop alla gestione, società in debito di 45 mensilità, revocata alla Convenzione Canesin, lo sposteremo altrove. Ovviamente revocata, alla Convenzione per la gestione del centro ipico La Pieve, alla società Il Piccolo Ranch, che risulta in debito di 45 mensilità con il Comune. Ancora avanti le altre notizie. Dalla pagina della provincia, elezioni, a giugno si vota in quattro comuni, oggi verranno presentate le liste dei candidati, a San Ginesio la sfida sarà a due. Scade oggi alle 12, il termine per la presentazione delle liste. Nei quattro comuni dove il 10 giugno si terranno le amministrative, si tratta di San Ginesio, Penna San Giovanni, Gagliole e Ussita, che saranno protagonisti della tornata elettorale. E questa mattina i loro cittadini conosceranno i sindaci in Lizza e la rosa dei candidati. Siamo ora a Corridonia, pronti 300 mila euro per le strade, cantieri previsti nelle zone di Via L'Italia e in Via Zuccolanti, avanti dunque per tutta l'estate, in un secondo stralcio si interverrà anche al centro disabili. Camerino, licenziato furbetto in ospedale, scoperto dopo un'indagine della Guardia di Finanza, l'uomo timbrava il cartellino, e il cartellino poi usciva per pranzi e shopping. Questa è naturalmente la vicenda, ma da oggi il dipendente dell'ospedale di Camerino, RF, le sue iniziali di 52 anni, è diventato ex dipendente, perché ieri il suo datore di lavoro, il direttore dell'area vasta 3 Alessandro Maccioni, ha stabilito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso. Civitanova, consiglio senza forze dell'ordine, sicurezza, la maggioranza, situazione migliorata ma è polemica, dunque consiglio comunale sulle sicurezza, in cui disertano le forze dell'ordine, assenti prefetto questore, comandante dei carabinieri, commissario e comandante della finanza. Ancora notizie, da Civitanova, siamo sulla pagina 15, la segnalazione, nei fossi spuntano erbacce ovunque, area floristica invasa dai rifiuti, impossibile accedere alla zona senza schivare i sacchetti. Si tratta, come dicevamo, dell'area floristica di Fontespina. Ancora avanti a Chiarino, siamo nell'area di Recanati, due gli avvocati incaricati per cercare di fermare l'attività, parliamo dell'aviosuperficie che va trasferita, una sessantina di residenti che hanno lanciato una petizione, c'è chi saluta con piacere l'arrivo della bella stagione, chi invece paventa il bel tempo, perché con questo arriva anche il continuo disturbo della quiete familiare, fra quest'ultimo anche Luciano Galli, che reside per sua sfortuna a pochi passi dall'aviosuperficie in zona squarta bua di Recanati, in campagna per la precisione a Chiarino, dove pensava di poter trovare silenzio e pace, invece specie durante i mesi primaverili ed estivi, deve fare i conti con il rumore continuo e assordante, derivante da un aeroplano del centro di volo Ali sul Conero. Ancora notizie, siamo ora nel zona di Porto Recanati, Maxi Blitz della Polizia House Driver Village, passati al setaccio controlli a tappeto con il cane antidroga. Ancora notizie, ci spostiamo ora sul Corriere Adriatico, il cui primo piano è dedicato anche in questo caso agli aperitivi europei, a macerata oggi il gran finale, la giunta contro i furbetti. Ci sono alcuni locali che non hanno aderito formalmente, oppure esponendo bandiere dell'Unione Europea, all'assessore Cursi, se pensavano di fare un dispetto al comune, hanno sbagliato il bersaglio. Gli organizzatori infatti segnalano che in centro storico ci sono stati un paio di locali, che così vengono definiti. Qua sta festa è che senza aver aderito agli aperitivi, quindi senza aver pagato la quota che tutti i 72 locali hanno versato, hanno comunque esposto i vessilli e dispensato cibi e bevande in chiave europea. L'assessore Cursi commenta, l'anno scorso si era risolto questo problema, il fatto che alla dodicesima edizione della festa torni fuori per mano di due locali ex aderenti, fa sentire il sapore del dolo e non dell'ingenuità. Per quel che riguarda gli eventi, dalle ore 17 agli antichi forni ci sarà l'anteprima della manifestazione Terroa Marche e dalle 21 alle 24 alla loggia dei mercanti torna il vincitore di Masterchef Italia 2018, Simone Scipioni. Pagina 3 del Corriere Adriatico, subito macchiato il pavimento del sottopassaggio, il bianco lucido è già sporco, problema legato alla gomma. Non sono passate neppure 24 ore dalla riapertura della galleria pedonale per il centro storico, che affiorano i primi problemi. Altro evento parallelo, la racia, la racia è già una festa, l'agricoltura in mostra, porte aperte fino a domani, stasera spettacolo e quest. Il sindaco Carancini la rassegna in questo territorio, è un punto di riferimento. Processo traini, atto terroristico illegale di due giovani feriti, chiede di inasperire il capo di imputazione. Mercoledì la prossima udienza, complessivamente le vittime vogliono più di un milione, sono 13 le parti civili ammesse dai giudici. Ammonta, dicevamo, a 100 mila euro il risarcimento auspicato da un nigeriano sfiorato da un proiettile. Sempre a macerata, cede droga a uno studente minorenne, sorpreso a spacciare per la sesta volta, blizza il parco di Fonte Scodella, giovane della Gambia in manette, alle spalle altri due arresti e tre denunce. Videosorveglianza, IESARI, Spycam attive per luglio, installazioni in corso, 60 le telecamere che saranno accese in città, la spesa è di 141 mila euro che sarà sostenuta con la cessione di un appartamento. Ci spostiamo ora sulla pagina delle Marche che parla dell'elisoccorso. Il soccorso è sempre più in volo per l'eliambulanza, altre 17 piste, la regione prepara nuove aree e implementa le 29 esistenti per decolli e atterraggi notturni in fase di realizzazione 7 elisuperfici per collegare le aree del cratere sismico. Ancora notizie, autobus della gita in panne, alunni dormono in autogrill, guasto a Cerignola, studenti e docenti passano la notte sorvegliati dalla polizia, una gita confinale fuori programma per gli studenti dell'Ipsia Corridoni di Corridonia costritti a trascorrere, come dicevamo, una notte in pullman in autostrada per la rottura del mezzo che ha comportato il rientro a casa solo nella mattinata di giovedì, protagonisti 35 studenti e 4 docenti dell'Istituto Professionale Corridoniano. A Tolentino, adesso Pezzanesi fissa la priorità, fondi per Viale Vittorio Veneto, dissesto idrogeologico, il sindaco di Tolentino lancia un appello alla regione, servono provvedimenti finché l'emergenza venga risolta. Tim Brave andava in giro per ore, licenziato un operaio dell'ospedale, vi abbiamo raccontato questa storia, provvedimento preso dall'Asur dopo la segnalazione della Guardia di Finanza di Camerino. Ancora notizie da Civitanova, una serie di appuntamenti con i negozianti del centro, il 20 maggio Civitanova in fiore, in estate eventi dedicati a shopping Jets, e ancora però la pagina 27 è dedicata al Consiglio sulla sicurezza che è bufera. Polemica per l'assenza del sindaco, c'era picca in Russia per seguire la lube, non c'erano neanche il perfetto, ai vertici delle forze dell'ordine. Recanati, 72 casse di esplosivo, Fiordomo diffida il proprietario, il sindaco Toleranza Zero per il mancato smaltimento, procedure speciali per rimuovere l'Eternite, materiale di 40 anni fa, non ci sono legami con bande criminali, il ritrovamento in una ex armeria dismessa negli anni 70, noi ci siamo mossi subito. Ancora notizie, ora ci spostiamo sui quotidiani online, partiamo dai titoli di Cronache e Maceratesi, notizie di punta, Traini, feriti chiedono oltre un milione, risarcite due commercianti, il suo è stato un gesto terroristico, il 29enne ha versato alcune centinaia di euro per ripagare le titolari di due negozi di Corso Cairoli, restano da quantificare le richieste di due dei feriti, il legale di una delle parti civili annunciato che chiederà la prossima udienza che venga contestato il reato di terrorismo. Templar, rimanette il PM, traffico di 4 kg di droga, il commerciante di Montefano e il complice albanese sarebbero stati visti mentre lasciavano nei cassonetti quelli che la procura classifica come dei panetti di polvere bianca appena svuotati da un chilo l'uno. E, naturalmente, a proposito dei cosiddetti Templari, c'è stato lo scaccomato e Templari, arrestato insospettabile, commerciante, sequestrato, come dicevamo, oltre un chilo di cocaina. Licenziato il furbetto dell'ospedale, commissioni invece di lavorare e la decisione è presa dall'area vasta. L'uomo era già indagato dalla Guardia di Finanza per truffa peculato e interruzione di pubblico servizio. Recanati e il sisma, lontana dall'epicentro, ricoperta di milioni, alla città leopardiana dal capitolo per la ricostruzione dei territori disastrati, sono state destinate ingenti risorse. Ancora notizie, omicidio di Pamela, nessuna traccia sui vestiti di Auelima e Desmond, gli investigatori dei RIS hanno comunicato ai difensori l'esito degli accertamenti su abiti e scarpe sequestrate ai due indagati. Picchio News, altro quotidiano online maceratese, cocaina purissima per facoltosi imprenditori, l'arresto dei Templari di cui dicevamo, i Templari di passatempo, fa tremare anche Macerata. Vediamo nel dettaglio la notizia, si tratta naturalmente del blitz dei carabinieri che hanno trovato un chilogrammo di cocaina purissima nascosta, un altro etto di polvere bianca rinvenuta in casa a Osimo grazie al fiuto del cane Anita del nucleo cinofili di Pesaro. Altre notizie, sempre da Picchio News, resti umani all'hotel house, la madre di Kamei non sono abiti di mia figlia. Ricorderete questa vicenda che vi abbiamo ricordato del rinvenimento di frammenti ossei all'interno di un pozzo o di un casolare nei pressi dell'hotel house di Porto Recanati. Sisma, cabina di regia Caldaroli in arrivo misure per busta paga pesante, zona franca urbana. Altre notizie, ci spostiamo su MTV e celebrati a sacro cuore i funerali di Don Francesco Cocilova. Vi abbiamo dato la notizia nel giornale radio di ieri che potete riascoltare in qualsiasi momento. Sul sito di MTV, MTV.it, c'è anche ovviamente i contenuti, ci sono contenuti multimediali, video, tra cui anche programmi da rivedere, che vengono trasmessi su canale 89. Cronache fermane, ora i titoli, lotta alla criminalità, arrivano i rinforzi dalla Puglia, ecco gli specialisti della CIO, dei carabinieri militari della compagnia di intervento operativo, lavoreranno per alcune settimane in affiancamento e a supporto dei carabinieri della compagnia di fermo per un più incisivo controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne e a contrasto del crimine predatorio. Ancora notizie, Porto San Giorgio, schianto sul lungomare, auto si ribalta, ragazza al pronto soccorso, il primo a soccorrere la ragazza, il titolare dell'hotel, il caminetto, intorno alle 6, una seconda vettura si è ribaltata lungo la Valdete. Ancora notizie, due gattini di poche settimane intrappolati tra le fiamme salvati dai vigili del fuoco a bruciare un tratto di sterpaglia all'interno dell'area verde che costeggia la pista arciclabile a ridosso del ponte sul fiume Tenna. Da questa notizia ci spostiamo ora sull'Anconetano che appunto ci ricorda come nel comune di Osimo si è individuato questo maxigiro di cocaina. Il commerciante Ivi Residente è accusato di un traffico di 4 kg di droga i due arrestati dai carabinieri sarebbero stati visti durante un servizio di appostamento mentre lasciavano nei castonetti quelli che la procura classifica come dei panetti di polvere bianca appena svuotati da un chilo l'uno. Ancora notizie, salpa tipicità in blu, il Festival del Gusto e dell'Economia del Mare da giovedì 17 a domenica 20 maggio, quattro giorni in tutta la città ad Ancona dedicati all'Adriatico. Anton torna a casa, l'appello dei genitori del ragazzo scomparso, siamo a Iesi, otto giorni di silenzio, di assenza, otto giorni in cui non si hanno più notizie di Anton Paris, il ragazzo di 17 anni di origini russe scomparso da casa, giovedì 4 maggio. Siamo dunque in chiusura di questo spazio informativo, 8 e 52 minuti primi, prima però, vediamo le previsioni meteo per oggi, sabato 12 maggio, il sito di riferimentogeofisico.it del Centro di Ecologia e Climatologia dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata. Sulle marche avremo variabilità della copertura nuvolosa con rasserenamenti e con annuvolamenti accompagnati da locali rovesci nelle ore centrali del giorno, venti moderati dai quadranti occidentali, temperature stazionarie, mare poco mosso, il sole è sorta alle 5 e 42, tramonta alle 20 e 24 minuti primi. Uno sguardo in chiusura anche alle previsioni per domani, domenica 13 maggio, sulle marche avremo al mattino cielo sereno poco nuvoloso, probabile aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane, quando non sono ad escludere brevi piovaschi, venti moderati sud-occidentali, temperature stazionarie, ma con la tendenza a diminuire dalla serata, mare poco mosso, da poco mosso a mosso. 8 e 53 minuti, è davvero tutto per questo primo appuntamento informativo, in diretta sulle frequenze di Radio Nuova in Blu, l'informazione torna sempre qui, alle ore 12 e 30, 18 e 40 e 22, con il giornale radio, 13 e 10, 17 e 30, circa, e 19 e 40, con Marche Infinita Cultura, e ovviamente alle ore 10, con la seconda parte di Oltre i titoli, sempre con il sottoscritto, in cui invece approfondiremo alcune delle notizie della settimana, con l'ausilio di alcune voci da riascoltare, voci dalle Marche. È davvero tutto, grazie per la cortese attenzione, a più tardi.